buongiorno a tutti i campioni d'italia bentornati su inter for passion si ho detto campioni d'italia perché siete tutti presi dal calciomercato e vi siete dimenticati forse che siamo i campioni d'italia quindi è bene ricordarlo ogni tanto video brevissimo video brevissimo due cosette di calciomercato veloci veloci si è vero pare che l'inter abbia strappato il sì di nandez e si sta lavorando con giulini queste sono le voci che sono arrivate di recente quindi pare sia vero questo ma è anche vero che l'inter stia trattando telles quindi quello che succede voi sapete quanto me ne pussa fregata il calciomercato io non vedo l'ora che arrivi il 22 agosto inizia il campionato e via si parte però però in qualche modo lo dobbiamo fa qualche modo bisogna fa oggi è una giornata fantastica stamattina mi sono fatto due ore di camminata so che non ve ne fotte un cazzo però ve lo dico lo stesso e nulla ragazzi dai ci vediamo questa sera in live su inter for passion ciao ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella seguiteci sui social che forse vi metto in descrizione ciao ragazzi